L'Ucraina, secondo comunicazioni ufficiali, conquista terreno e afferma di aver infranto la linea di difesa russa nei pressi di Bakhmut. L'obiettivo è centrato dopo mesi di aspri combattimenti e dopo che un gruppo di soldati ucraini ha essato la propria bandiera nel vicino villaggio di Klishivka. L'ex viceministro della difesa Anna Magliar ha confermato che la località è stata liberata e ha aggiunto di aver respinto diversi attacchi russi che cercavano di riconquistare le posizioni perse. Secondo Chieva, la liberazione di Klishivka e Antrivka è avvenuta pochi giorni fa e ha dato all'Ucraina una solida base per continuare l'avanzata del fronte dell'oblast di Donetsk. La Russia insiste sul fatto che i combattimenti continuano a Klishivka e afferma di aver respinto sei attacchi ucraini in quell'area e in altre quattro località della regione del Donetsk.